Come stai? Tutto bene? Terzo Sono in alto terzo Dove? Paranempia L'italiano Ma sono qua Te l'abbiamo fatta a Palermo Ma cos'è che hai fatto te? No, tu Allora? Ciao Mi piace Fabio E niente Mi da pensare che devi stare Devo mettere queste cose qua Devo fare una sfilata con la Chiara Quindi è Guarda che va dentro E niente aspettiamo le fascite di colore Guarda che E' un po' di più Grazie a tutti. Grazie a tutti.